Salve amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di TeleIblea fa caldo, caldo, caldo e vedrete, ne parleremo anche nel nostro indice di oggi. Quando fa caldo così scoppiano gli incendi, già ieri c'era stata questa situazione, zona di Enna, zona di Agrigento, molte case sono state addirittura distrutte dagli incendi, ma oggi la situazione è peggiorata perché addirittura è stato chiuso in serata, nel tardo pomeriggio, l'aeroporto di Catania, perché il fumo, non che l'incendio andava proprio a disturbare l'interno dell'aeroporto, ma il fumo creava delle difficoltà e quindi è chiaro che per una questione di sicurezza si è preferito chiudere l'aeroporto, almeno per un paio d'ore, ora al momento di andare in onda è ancora chiuso, ma poi vedremo se ci saranno novità. Però questo incendio, un incendio molto serio e come vedete spesso sono incendi dolosi. Io mi chiedo perché, o la gente pazza, perché una volta si bruciavano i terreni perché poi potevano essere cambiati di destinazione, se c'era una foresta, la foresta non c'è più, ora ci facevamo i cazzi, ci sono leggi che lo proibiscono, quindi non capisco per quale motivo. E poi qua siamo in una zona altamente popolata, qui sono zona Ikea, zona Librino, insomma a Catania c'è una cappa di fumo che fa anche impressione preoccupante. Quindi l'aeroporto è chiuso. Gli incendi. Ieri avevo fatto cenno a questa storia dei Canadair. Quando ci sono questi incendi così grossi, così preoccupanti, tutti invocano i Canadair o almeno anche gli elicotteri di antincendio, però i Canadair hanno più portata, hanno bisogno di un posto per partire a mare o ci vuole un lago, però riescono a fare carichi. Come funziona il Canadair? Allora ci sono dei responsabili nel mondo dei pompieri, quindi dei vicini del fuoco, ci sono dei responsabili che sono loro che devono decidere quando è il momento di chiamare i Canadair. Questo però è in tutta Italia. Da noi è un'altra cosa, da noi non sono quelli dei vicini del fuoco, ma sono i forestali a chiamare i Canadair. Quindi anche questo noi siamo così bravi a cambiare le carte in tavola. Qual è il problema in questa vicenda? È che anche su questa storia ci sono dei business pazzeschi. Ora non vorrei che uno dà fuoco, perché poi chiamano i Canadair, che pensate, vengono pagati a 15 mila Euro l'ora. Sono aerei speciali, ma non sono neanche niente di eccezionale, perché un aereo charter, se io dovesse affittare un charter, e l'ho fatto, l'ho fatto diverse volte nella mia carriera, un charter, un aereo che vi posso dire, quello che abbiamo fatto, il volo comiso Malta nel 2013, quello costa 3.500 Euro l'ora, tutto compreso. Quindi 15 mila sono delle cifre alteci, ma sono aerei tecnologicamente evoluti il massimo che si possa avere. Purtroppo non è così. Allora, che noi abbiamo la migliore flotta di Canadair, di aerei antincendio in Europa, però la facciamo gestire a delle società straniere che naturalmente devono lucrare. E lucrano su che cosa? Addirittura sulla manutenzione, non lo dico io, perché vi faccio sentire 3 minuti e mezzo di un servizio fatto da Report, il giornale, il programma di Rei 3, molto attento, quindi io ve lo faccio vedere, tratta proprio questo argomento, io ieri avevo fatto cenno di questa situazione. Vediamo.